Musica Matteo Renzi sabato prossimo sarà in Sicilia, firmerà il patto per Palermo e il patto per Catania. Nuovo stop da Roma alla legge sulle province approvata dall'Ars. Targhe alterne e raffiche di multa nel primo giorno del provvedimento. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di giovedì 28 aprile. Come avete appena sentito Matteo Renzi sabato prossimo sarà in Sicilia, firmerà il patto per Palermo ed il patto per Catania. Vediamo. Il presidente del consiglio Matteo Renzi sabato prossimo sarà a Palermo. L'appuntamento è alle 18 al Teatro Massimo. Una visita annunciata tramite la sua iNews. Riapriamo una delle arterie a quattro corsie chiuse dopo i crolli degli scorsi mesi. Ricordate gli impegni per rimettere a posto le strade in Sicilia? Poi firmiamo il patto per Palermo e il patto per Catania visitando entrambe le città. Renzi taglierà il nastro del raccordo che da Caltanissetta arriva all'autostrada Palermo-Catania, parte del raddoppio della Caltanissetta-Agrigento. Il patto invece prevede risorse aggiuntive del governo e fondi dell'Unione Europea a disposizione delle città per infrastrutture produttive ed interesse sociale. Ma per la firma del patto potrebbero esserci dei problemi. Infatti si pone un problema. Chi potrà firmarli? In Sicilia la legge sull'ex provincia è ancora ferma al pale. Orlando e Bianco sono soltanto i sindaci di Palermo e Catania e non dell'area metropolitana. Entro sabato si dovrà trovare quindi una soluzione. Nuovo stop da Roma alla legge sulle province approvata dall'Ars. Il punto sul quale non c'è ancora un accordo è la norma che disciplina l'individuazione del sindaco delle città metropolitane. Da Roma un'altra tegola sull'Ars. Il governo Renzi impugnerà ancora una volta la norma sulle ex province approvata di recente all'Assemblea. Ad annunciarlo al governatore Rosario Crocetta con una lettera e il sottosegretario degli affari regionali Gian Claudio Bressa. Nella missiva ha precisato che non potrà essere ritirata l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale presentata dal governo nazionale. Il punto sul quale non c'è ancora un accordo è la norma che disciplina l'individuazione del sindaco delle città metropolitane. Nell'arresto d'Italia infatti la riforma del Rio ha sancito la corrispondenza tra il sindaco metropolitano e il sindaco del comune capoluogo. La Sicilia invece ha deciso diversamente scegliendo di eleggere quella figura attraverso elezioni di secondo livello. In pratica i sindaci dei comuni che ricadono nell'area metropolitana voteranno per l'elezione del sindaco metropolitano attraverso il voto ponderato. Il valore di ogni voto insomma è proporzionale alla cittadinanza rappresentata. Una norma che scluderebbe l'automatico arrivo nel ruolo di sindaco metropolitano di Leo Luca Orlando ed Enzo Bianco. Una posizione fortemente voluta dal presidente Crocetta e approvata da Sala d'Ercole. Si profila quindi un nuovo braccio di ferro con Roma proprio quando dovrebbero arrivare i finanziamenti per evitare il dissesto di tanti enti. All'Ars in discussione la manovra stralcio della finanziaria. Ha approvato il primo articolo che avvia i prepensionamenti con la legge pre-fornero in tutti gli enti controllati dalla regione, comprese le camere di commercio. Sala d'Ercole ha iniziato a discutere la manovra stralcio della finanziaria. Ha approvato il primo articolo che avvia i prepensionamenti con la legge pre-fornero in tutti gli enti controllati dalla regione, comprese le camere di commercio. Quindi potrà andare in pensione anche chi ha meno di 65 anni di età e non ha 40 anni di contributi. Ha approvata la norma che consente di trasferire i testimoni di giustizia in altri rami dello Stato ma pagati dalla regione e passa anche l'emendamento musumeci che apre la possibilità del telelavoro per questi testimoni di giustizia. Una legge omnibus che i partiti cercheranno di cavalcare per saziare gli appetiti degli scontenti al primo turno. Per lo sviluppo, come al solito, c'è dentro ben poco. Il Movimento 5 Stelle boccia nel merito e nel metodo il DDL stralcio della manovra. Il Movimento, anche in questa occasione, ha provato a mettere qualche pezzo in questa manovra aggiuntiva con una decina di emendamenti. Tra questi da segnalare quello contro la soppressione del Centro regionale per la progettazione, del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva e soprattutto quello che mira ad abbassare il tetto e gli stipendi dei dipendenti contrattualizzati delle partecipate regionali aumentando nella parte sottoposta a tassazione, incidendo sul reddito anno omnicomprensivo e non sul reddito anno complessivo fiscale. Parliamo adesso di immigrazione. Inaugurata a Catania la nuova sede di Frontex, presente il Ministro dell'Interno Angelino Alfano e il Commissario europeo per la migrazione Dimitris Avramopoulos. Inaugurata ieri a Catania in via Transito 74 la nuova sede di Frontex, la Task Force regionale europea per la gestione dei migranti, centro operativo che ogni Stato membro deve avere in base all'agenda della Commissione europea per l'immigrazione. Presente il Ministro dell'Interno Angelino Alfano che ieri in Prefettura ha prima incontrato il Commissario europeo per la migrazione Dimitris Avramopoulos per discutere sui temi relativi alla migrazione, all'asilo, alla riforma del regolamento di Dublino, alla Guardia Costiere e al Migration Compact. Abbiamo il dovere di fare i conti con questo momento della storia europea. Siamo a un bivio decisivo, ha detto il Ministro, o si prendono decisioni concrete e realizzabili su alcune questioni o davanti l'Europa ha un futuro cupo ed incerto. La leadership europea, proseguita Alfano, devono prendere in mano il dossier libico come hanno fatto con la Turchia e un altro punto fondamentale è quello che riguarda il meccanismo dei rimpatri. Noi accoglieremo, ma allo stesso tempo lavoreremo per rimpatriare chi non è in regola. Quanto all'apertura di una sede della Polizia di Frontiera nel capoluogo etneo per Alfano rappresenta un successo del nostro paese. Io e non solo avevo chiesto che non ci fosse solo a Varsavia un luogo di Frontex, ma ci fosse anche in Sicilia per rafforzare l'idea che la frontiera che i migranti vogliono varcare è quella europea e non italiana. Alfano infine ha anticipato che ha allo studio una proposta da presentare all'Europa per l'uso delle navi per l'identificazione dei migranti, per poter prendere impronte digitali e dati anagrafici in mare durante i soccorsi, così da non avere un posto fisso a terra creando degli hotspot sul mare. Targhe alterne a Palermo, raffiche di multe nel primo giorno del provvedimento, 218 i controlli effettuati e 54 le contravvenzioni elevate. 8 pattuglie di mattina e 8 di pomeriggio hanno presidiato alcuni punti della città, da Piazza Castelnuovo alla stazione centrale e hanno elevato complessivamente 54 multe. Le macchine fermate sono state 218. Questo è il primo bilancio delle contravvenzioni elevate per il riavvio dell'ordinanza delle targhe alterne a Palermo. La Polizia Municipale è allerta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 un vero incubo per gli automobilisti o almeno per quelli che non rispettano l'ordinanza. La multa è salata a ben 163 euro. Il provvedimento riguarda i veicoli Euro 0, 1, 2 e 3. Ne restano esclusi veicoli a GPL o a metano, ibridi ed elettrici e quelli con motorizzazione da Euro 4 in su, oltre i mezzi medici e delle forze dell'ordine. Sabato e domenica invece potranno circolare tutti i veicoli senza alcuna limitazione. Il Comune dunque ci riprova. Un primo esperimento di targhe alterne infatti non è andato a buon fine nel 2010. Di fatto l'ordinanza non è mai stata osservata dai automobilisti e i controlli della Polizia Municipale. Lo scorso anno sono stati nell'ordine di 3 al giorno a fronte di decine di migliaia di veicoli irregolari. Si tratta in ogni caso di una misura tampone in attesa del ritorno della zona traffico limitato. Ha spiegato il Comune che nelle ultime ore ha avviato i rimborsi dei pass. Nei primi due giorni sono già stati in 6.745 a richiedere la restituzione delle somme. Problema risolto al momento sul fronte idrico a Messina dopo l'ennesima interruzione di due giorni fa. I lavori sulla condotta di Fiumefreddo si sono conclusi nella notte. Rientra l'incubo emergenza idrica a Messina. La condotta di Fiumefreddo che si era rotta nelle scorse ore vicino al Comune di Sant'Alessio è stato riparato dall'AMAM, l'azienda meridionale Acque di Messina diretta da Luigi Larosa. Oggi in alcune zone ci potrà essere ancora qualche disagio, spiega il Direttore Generale, ma da domani l'erogazione sarà regolare in tutta la città. Adesso si dovranno riempire di nuovo i serbatoi cittadini, quindi in alcune zone l'acqua arriverà stasera. Siamo riusciti a riparare il guasto in meno di 36 ore, naturalmente speriamo non si ripeta più. Dal sopralluogo e dal monitoraggio effettuati, i tecnici avevano trovato ben 39 criticità in tutta la condotta di Fiumefreddo lunga 70 km, delle quali 8 gravi per il dissesto idrogeologico del territorio. La perdita di acqua inoltre ha provocato movimenti del terreno che è stato trascinato a valle lungo il torrente Salice, con successivo sversamento in mare. Ben visibile una grande chiazza rossa nel mare di Sant'Alessio, ma si tratta di terra argillosa non inquinante. Appena sei mesi fa i cittadini, per un altro guasto a Cala Tabbiano, rimasero ben 20 giorni senza acqua. Il problema, prosegue la rosa, è che ci vogliono 6 milioni di euro per risolvere le criticità e aspettiamo soldi dalla regione e dallo Stato per intervenire. Adesso l'acqua è ripresa a scorrere nelle tubature per raggiungere nell'arco di qualche ora tutte le case, ma tra i residenti rimasti a secco già diverse volte nell'arco di pochi mesi, resta l'apprezzione per possibili futuri disagi legati a un sistema idrico che appare fragile e che ha bisogno di investimenti mentre si va incontro all'estate. Rifiuti, inchiesta sul percolato a Bellolampo, assolto l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, raffiche di prescrizioni e assoluzioni per nove indagati, condannato soltanto l'ex direttore generale dell'AMIA, Orazio Colimberti. La quarta sezione del Tribunale di Palermo ha assolto per non aver commesso il fatto l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata per lo sversamento di percolato nella discarica di Bellolampo. In totale erano 11 gli imputati nel processo per disastro ambientale, avvelenamento di acque, discarica abusiva e traffico di rifiuti. A Cammarata e all'ex liquidatore dell'AMIA, Gaetano Locicero, anche lui assolto, veniva contestata anche l'accusa di abuso d'ufficio perché secondo i PM avrebbero rimosso illegittimamente il direttore di Bellolampo, Giovanni Guicciardi, contrario alla loro gestione. C'è invece un solo condannato, l'ex direttore generale dell'AMIA, Orazio Colimberti, per lui la pena è di tre anni. Assolti anche l'ex presidente del Consiglio di amministrazione della società, Vincenzo Galioto, Nicolo Gervasi, Aldo Serraino, Pasquale Fradella, Antonio Putrone, Fabrizio Leone, Luigi Graffagnino e Mario Palazzo. Per Locicero, Fradella, Serraino, Graffagnino e Palazzo alcuni reati sono stati dichiarati prescritti. I PM avevano chiesto quasi mezzo secolo di carcere, nel 2013 la discarica fu anche sequestrata. Dalle analisi chimiche è emerso che il percolato si è infiltrato nelle falde acquifere e in quattro pozzi privati della zona, in cui vennero trovate tracce di solfiti, nitrati e metalli. Il liquame, inoltre tracimato a valle, avrebbe inquinato il torrente Celona, che alimenta il canale Passo di Rigano, le cui acque finiscono nel mare del quartiere Acquasanta. Al Via stamattina il concorsone della scuola 2016 in palio 63.712 cattedre in tutta Italia, in Sicilia 4.019 posti disponibili. Concorsone della scuola Al Via anche in Sicilia. Per i 4.110 posti messi a disposizione nell'isola sono quasi 18.000 gli aspiranti docenti che questa mattina si sono cimentati con la prova scritta del concorso previsto dalla Buona Scuola del Governo Renzi. Si tratta della selezione riservata ai soli docenti abilitati e che permetterà a un candidato su quattro di assicurarsi la cattedra a tempo indeterminato. Le prove scritte, predisposte dai funzionari dell'ufficio scolastico regionale di Via Praga, si svolgeranno fino al 31 maggio con 12.000 postazioni informatiche, ospitate in 700 aule di 350 scuole, sparse in tutte e nove le province siciliane. Per la prima volta le prove si svolgono al computer e prevedono per tutte le discipline lo stesso schema. Otto domande aperte e o a risposta multipla, di cui due in lingua straniera, da completare in 150 minuti. Nell'isola si parte con due delle sei classi di concorso previste per oggi, Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie in mattinata e Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche nel pomeriggio. Le altre due classi di concorso, Storia dell'Arte e Scienze e Tecnologie Nautiche, si svolgeranno invece in Campania. Cinque le scuole coinvolte oggi a Palermo per la prova scritta, gli istituti superiori Rutelli, Marco Polo, Piola Torre e Crispi Almeida per la mattina e l'alberghiero Piazza di Corso dei Mille per le prove pure meridiane. Lunedì poi si replica con altre cinque insegnamenti, tra cui l'italiano alle superiori e alle medie. Intanto per gli ultimi assunti arriva una buona notizia, la Commissione Cultura del Senato infatti ha approvato un emendamento con cui 7.000 dei 10.000 siciliani assunti con la buona scuola, pronti a partire o già partiti per le regioni settentrionali, potranno sperare di rimanere vicino casa e famiglia. Alla città dei ragazzi di Palermo sono riprese oggi le attività ludico-ricreative che saranno condotte dall'Associazione Sole Luna. Riprendono oggi le attività ludico-ricreative per la stagione di attività 2016 della città dei ragazzi di Via Duca degli Abruzzi. Il parco, riaperto all'inizio dell'anno per la libera fruizione da parte dei cittadini, potrà ora offrire ai bambini e alle bambine laboratori di manipolazione, attività motorie di animazione negli spazi del parco e per i più piccoli i giochi del miniclub. Le attività saranno condotte dall'Associazione Sole Luna, a giudicataria dell'apposita gara pubblica. Entro la fine di maggio, con la conclusione dei lavori di manutenzione del treno, sarà in funzione anche il battello. Con la ripresa delle attività, dichiarano il sindaco Leo Luca Orlando e l'assessore alla cittadinanza sociale Agnese Ciulla, la città dei ragazzi arricchirà le offerte di svago e di aggregazione per l'infanzia e l'adolescenza, in un luogo di particolare significato storico e culturale della città. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni.